Individuato anche un altro dei componenti della banda che aveva messo a segno il colpo alle chianacce di Cortona e che si era poi data la fuga lungo la linea ferroviaria. Proseguono infatti senza sosta le indagini portate avanti dai carabinieri della compagnia di Cortona dopo il furto avvenuto lo scorso martedì in un agriturismo. I tre malviventi erano infatti riuscite ad entrare in un appartamento dove erano alloggiati dei turisti americani e portare via un bottino da circa 20.000 euro tra contanti gioielli e d'orologi. A sorprendere i malviventi mentre stavano rubando il proprietario dell'agriturismo che li aveva così costretti alla fuga in auto inseguendoli con la propria macchina sino a Montepulciano. I ladri braccati sia da militari di Cortona che da quelli di Montepulciano avevano così abbandonato l'auto proseguendo la loro fuga a piedi sino alla linea ferroviaria. In manetta era così finita una donna di etnia Roma bloccata dai militari dopo essersi ferita cadendo mentre i complici erano riusciti a far perdere le proprie tracce. Durante l'inseguimento era anche transitato un treno che aveva interrotto la propria marcia per oltre un'ora per permettere così le ricerche in sicurezza dei fuggitivi. La donna arrestata si trova ancora piantonata in ospedale dove è stata ricoverata per una frattura al bacino e una alla spalla. Adesso i militari avrebbero individuato anche un altro componente grazie alle foto segnaletiche. Si tratta di un pluri pregiudicato di etnia Roma senza fissa dimora che proviene dai campi nomadi della zona di Roma, un uomo già noto anche alle forze dell'ordine della zona sempre per reati legati a furti. Anche la donna arrestata proviene dallo stesso campo nomadi di Roma.